Benvenuti agli oltre 80.000 followers che in poco più di una settimana sono già iscritti al nuovo canale WhatsApp di Roma Capitale. Sono davvero orgoglioso del fatto che siamo il primo e al momento l'unico Comune Italiano scelto per il lancio di questa nuova funzionalità che arriverà nei prossimi giorni su tutti i telefoni. Un modo semplice, veloce, pratico e totalmente privato per ricevere tutte le notizie sulla città. Guardiamolo insieme. Sul canale di Roma Capitale trovate tutti gli aggiornamenti su quello che succede ogni giorno. Mobilità, trasporti, cantieri, servizi, scuola e tutti gli eventi e gli appuntamenti per vivere a pieno Roma. Approfitteremo di questo nuovo canale anche per coinvolgervi su alcuni fondamentali obiettivi comuni come rendere le nostre strade più sicure, aumentare sempre di più la raccolta differenziata nelle nostre case e molto altro ancora. Cercateci tra i nuovi canali WhatsApp e iscrivetevi tutti e condividete l'invito ad iscriversi a Roma Capitale.